buongiorno a tutti eccoci qui in questo nuovissimo video stanno facendo i lavori ancora ancora quindi scusate per il casino ma che devo fare? eccoci qui in questo nuovo mukbang finalmente riesco a girarne uno e oggi mangerò un rotolino e un bounty buono mi piace un sacco il cocco a voi cosa ne pensate? mi piace il bounty il cocco tutte queste cose che a me il cocco mi fa impazzire niente avete dovuto raccontarmi qualcosa da raccontarmi non so io penso che avete già visto il video il mio ragazzo mi ha raccontato l'album delle figurine del santoro adoro veramente quell'album veramente la santoro è meravigliosa peccato che è abbastanza cara allora è cara se vuoi prendere la cartella, l'astuccio, le bamboline di pezza diciamo che nelle bamboline quelle delle blind bag così era un prezzo accettabile invece dell'album comunque l'album costa 2 euro un pacchetto di figurine 1 euro ottimo io direi che è ottimo anzi ci sono degli album che costano molto di più sia come bustine che come album quindi quindi ottimo e fatemi sapere se vi può piacere dei video dove apro le bustine asmr c'è solo con i rumori della carta delle figurine insomma perché secondo me tanto così ve le mostro senza magari commentare capito capite magari per voi anche più rilassante non lo so insomma mi può piacere di più se mi può piacere di più io lo faccio senza problemi soprattutto ditemi se vi piace vedere i video dove le mostre figurine delle gorgeous insomma perché se non vi piace al principio è inutile poi ho visto su amazon che praticamente c'è una promozione di avete presente le scatole quelle che ti tengono in ericola quelle con dentro tutte le bustine ecco una scatola di quelle con dentro 50 bustine costa 40 euro questo vuol dire che 10 bustine praticamente te le regalano invece di pagarla 50 euro perché ci sono 50 bustine da un euro ne paghi 40 50 bustine secondo me è un ottimo prezzo quindi ci sto pensando se prenderle o no anche perché mi hanno detto che c'è una possibilità su 4 che con una scatola ci siano comunque tutte le figurine per completare l'album quindi mal che vada che ne mancano 4 5 10 20 quello che è le scambio così vedo se riesco a scambiarle qualcuno se anche voi le fate e volete scambiarle i doppi insomma per scrivetemelo qua sotto ok ci sono mi stavo ammazzando ok quindi stavo dicendo se qualcuno le vuole scambiare le doppi insomma scrivetemelo qua sotto in un commentino se fate l'album se lo volete scambiare eccetera che poi scambieremo le figurine così se tu c'è i doppi e quelle che io non ho io ho doppio quello che si scambiano e poi ma che vada se non riesco a trovare nessuno che è proverò magari a acquistare qualche altro pacchettino ma se proprio proprio non trovo nessuno cioè in senso se non trovo altra soluzione che non riesco a trovare quelle figurine che mi mancano sicuramente le acquisterò sul sito della panini perché voglio completare completamente tutto l'album perché mi piace tantissimo veramente tantissimo e niente io con questo vi saluto scusate se ho parlato solo dell'album delle figurine e comunque spero che questo video vi sia piaciuto ovviamente se è così lasciate tanti like iscrivetevi al mio canale e vi ricordo di attivare la campanella qua sotto è tutto per avere sempre una notifica dei miei caribetti del video e niente io vi mando un grosso abbraccio un grosso abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao